Mi verrebbe quasi da dire scusate il ritardo, come c'era una vecchia citazione. Devo dirti la verità, sono felicissimo perché vengo da un periodo veramente complicato, veramente difficile ed ero anche in dubbio se partire o meno per questa gara. Però mi ritengo molto molto soddisfatto. Oggi sono felice perché ho preso una medaglia che cercavo da una vita. Ed è arrivata. È arrivata insieme ai miei compagni di squadra che sono arrivati poi secondo e primo e non potrei essere più felice di così. Davvero sono felice per loro perché hanno espresso, abbiamo espresso una scherma incredibile, tutti. Abbiamo fatto qualcosa senza precedenti. Cresciuto tantissimo, sono felicissimo per loro e sono felicissimo di condividere il podio con loro. Da capitano la cosa che mi rende fiero oggi probabilmente deve aver dato un buon esempio. A questa età con tutti gli acciacchi fisici, i problemi eccetera eccetera, non bisogna mollare mai perché veramente non è mai detta l'ultima parola nello sport, forse anche nella vita.